Salve, salve da Marco Calabro per conto di cellocost.it. Questa è una stanza del BB house di Bangkok, Thailandia. La stanza è piccola, però molto ben arredata. Il prezzo è 450 baht al giorno, un poco più alto del minimo che abbiamo incontrato, che era di 400 baht. Però effettivamente la stanza è molto gradevole. Grazie per ascoltare i video di cellocost e ci vediamo al prossimo video.